Si è svolto da venerdì 22 a domenica 24 luglio a San Pieri il Festival dello Sport. La manifestazione è stata organizzata dall'associazione sportiva Fitness World in collaborazione con l'agenzia di comunicazione Gold Communication. La manifestazione si è aperta venerdì sera con l'esibizione della Conad Scherma Modica a riduci del successo ottenuto agli europei di scherma. A seguire ci sono stati degli incontri di boxe maschile. Molto partecipate sono state le attività sportive che si sono svolte durante le giornate di sabato e domenica. L'acqua gym, lo spinning e poi anche il raduno delle Fiat 500. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sabato sera l'attesa notte della boxe. Ospiti della serata la campionessa europea di boxe, quattro volte campionessa italiana Giacoma Corbio e la volese Antonio Duco direttamente dalla trasmissione televisiva di Italia 1 Tamarreide. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie per la visione 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 Grazie per la visione